È libero? Ah, la luce è spenta. Quindi, luce è spenta, non disponibile. Oh, l'ho perso. Vada in fondo a destra. Destra, la ringrazio. Ammetto che il mio trasferimento a New York è più duro del previsto. Di solito riesco a gestire molte cose, come fossi una one-woman show. Le prime due settimane ho pianto. Era più semplice a Los Angeles. È libero? Scusi, è libero? Salve. Sì. Ok, grazie. Salve un taxi? Sì, grazie. Sono le piccole cose, come le persone che ti aiutano con i bagagli o semplicemente che non ti sputano sulle scarpe. Cose così. È stata dura. Si chiude? Sì. 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 Sì.